benvenuti tutti signori e signore siamo davvero dietro a tutti da botanica urbana santa marinella roma nord siamo qui perché oggi per dirvi che siamo diventati un free with info point e cosa vuol dire questo niente con la nico urbana ha deciso di appoggiare l'unica associazione antiproibizionista al momento esistente in italia secondo me però vabbè questo è solamente il mio parere che dice e non gli importa nulla di quello che dice anche se tutti quanti gli vanno un conto perché non ci prega niente basta che di ma verità vabbè siamo qui per dirvi che se volete desterarvi con free with basta che venite in negozio e lasciate i vostri dati e riperà direttamente che la testera qui da noi sempre in collaborazione con free with e il nostro presidente stefano che salutiamo poi niente siamo qui nel shop e volevo farvi vedere anche i nostri gadget che sono che la vendita del gadget adesso faccio un po' il mastroda sono riservatissime solamente ai tesserati free with andiamo a vedere cosa c'è allora eccoli allora abbiamo tanto per iniziare gli adesivi del free with che verranno regalati a tutti i tesserati oddio mi è cascato poi abbiamo i bellissimi braccialetti del free with di colore bianco e colore verde come vedete che indosso molto carini e poi abbiamo gioco e dolci in fondo i bellissimi spettacolari unici grinder in plastica con calamita del free with disponibili in varie colorazioni verde oddio giallo e rosso e il valore non è il grinder di plastica ragazzi ma è possedere il grinder del free with solo questo poi abbiamo anche le spillette le nostre spillette molto belle dove ci dicono un'autoproduzione libera e giusta col marchio del free with niente siamo qui nel shop facciamo l'ultimo saluto salutiamo tutti il nostro presidente stefano e forza free with